Mirabel, Lady Shake, vieni qua Mirabel, tu sei una cantante di reggaeton, in Colombia è un grande successo, ma in Sud America anche, è nel mio paese lindo, in Repubblica Dominicana, in Colombia, e quindi insomma ecco, devo dire che hai deciso di fare questo reality perché mi piacerebbe che mi conoscono anche in Italia Sì, mi piacerebbe che mi conoscano la mia musica anche in Italia, io canto in varie lingue, non in italiano, però in spagnolo, portoghese, inglese e prossimamente vorrei fare un rap col francese e l'italiano Insomma, Susan, qui, stiamo in casa perché Stiamo in casa, no è certo Mirabel, io sei che tu sei molto conosciuta in Colombia perché io anche sto qui, e io credo che adesso hai che cantare, no? Sì, certo Qui tu ti parliamo spagnolo Quindi speriamo che tu canti per noi, ok? Grazie, sono molto felice di essere qui, grazie a tutti Facciamo un grandissimo applauso a Mirabel, per favore, che adesso si delizierà con la sua canzone urbana Questa sera vi canterò Party, già potete trovare anche il video su YouTube e prossimamente, tra due settimane, Immaginandote Ok, allora, che ti vado tutto bene Grazie Ok, Mirabel, Lady Shake Ok, allora, che ti vado bene Grazie 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 a tutti. Quando muovo, muovo, yo los quemo, quemo, y lo hacemos, emo, juntos en el party, man, porque tenencio lo que quiero yo, solamente es party, mano arribo a la mujer independiente que le guste el party, man, porque tenencio lo que quiero yo, solamente es party, party, juntos en el party, man, porque tenencio lo que quiero yo, solamente es party, mano arribo a la mujer independiente que le guste el party, man, porque tenencio lo que quiero yo, solamente es party, solamente es party, party, juntos en el party, Yo quiero yo, solamente es party, disencio lo que quiero yo, solamente es party, Mirabel, Mirabel, Lady Shake allora Mirabel tu tenevi compagnia le ragazze dentro la casa proprio perché non avevano la musica e non avevano niente e c'era un motivetto sempre, se vuoi vai lì e lo canti con loro questo motivetto che è una tua canzone dai ragazze dai fatelo questo pezzo tutto insieme forza dai dai abbraccio come stavate dentro la casa come stavate non avevate la musica non mi canso di pensare Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione